Ciao, sono Didi, MLA Lover. Lo sai che con il metodo MLA l'esperienza all'estero si trasforma in un percorso formativo a 360 gradi? Proprio così! Potrai studiare la lingua prima, durante, dopo la partenza, grazie ai corsi d'inglese online live di MLA. Partecipando alla vacanza studio MLA riceverai ben tre certificati, uno relativo al corso di inglese in prepartenza, uno alla fine della tua vacanza studio e infine il portfolio didattico a fine vacanza, al tuo ritorno. But there's more! Se vorrai potrai completare la tua esperienza di vacanza all'estero con una certificazione linguistica. Solo se ti iscriverai entro il 20 di dicembre avrai la possibilità, con soli 190 euro di supplemento, di fare un upgrade del corso prepartenza che riceverai in omaggio, trasformandolo così in un corso di preparazione alla certificazione Cambridge Assessment. Avrai inoltre accesso alla piattaforma Test & Train che ti permetterà di esercitarti prima dell'esame. Guys, i certificati al giorno d'oggi sono super importanti e con MLA il vostro curriculum diventerà wow!